A Nuoro, nella casa di Grazia Deletta, dove nacque e crebbe, oggi è un museo, davanti al premio Nobel per la letteratura che le fu concesso nel 1926. Era la seconda donna a vincere un premio Nobel, anche dopo sono state pochissime le donne a vincere il premio Nobel. Nobel pronuncia il suo discorso più breve che sia stato pronunciato di ringraziamento quando le hanno dato il nome, dicendo grazie a questo premio che date all'Italia per il tramite del mio modesto nome.